Musica Il caro Energia rischia di mettere in ginocchio non solo famiglie e imprese ma anche le scuole. Grido di allarme del commissario straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois. Il governo intervenga. Tre commissioni consigliari convocate per discutere del nuovo regolamento della tassa di soggiorno da ottobre, le nuove tariffe. Grande successo per la cavalcata sarda Sassari, spettacolo e affluenza record, oggi su CatalanTv1 speciale realizzato da Chico Solinas. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che quest'oggi apriamo parlando di scuola perché tra pochi giorni riprendono le lezioni ma sono diversi i problemi in cui si va incontro. Dall'assenza di insegnanti a quello altrettanto urgente legato al caro Energia. Per energia e gasolio il governo deve trasferire alla provincia di Sassari le risorse per garantire l'apertura delle scuole. È un vero e proprio grido d'allarme quello lanciato nei giorni scorsi dal commissario straordinario della provincia, Pietrino Fois, a pochi giorni dalla prima campanella. Prima dell'apertura delle scuole dobbiamo mettere in sicurezza il bilancio e con l'aumento indiscriminato del costo dell'energia è impossibile far fronte alla copertura delle bollette, afferma Fois. I 2.600.000 di media degli ultimi anni dalle proiezioni fatte degli uffici triplicheranno. Non siamo in grado di far fronte a questo aumento di spesa. Il governo intervenga per tempo perché non intendiamo mettere a rischio l'apertura delle scuole e la salute dei nostri studenti, aggiunge il commissario straordinario della provincia di Sassari. Sono una settantina i plessi scolastici di competenza, non solo quelli del sassarese ma anche in Gallura. Insomma, per il caro energia è allarme anche nelle scuole. Nei giorni scorsi è circolata anche la possibilità della settimana corta o ancora di un giorno in didattica a distanza. La prima ipotesi è stata letteralmente bocciata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Il governo non ha mai parlato di questa possibilità, ha detto, aggiungendo che di fronte ai problemi che abbiamo e che tutti conosciamo, la scuola deve essere l'ultima a essere toccata. Ma c'è un altro problema, non nuovo a dire il vero, che riguarda la scuola. I sindacati infatti stimano che mancheranno 200.000 insegnanti a livello nazionale. In Sardegna invece sono 2.000. I docenti di ruolo che mancano per coprire i posti vacanti sarà necessario nominare i supplenti. Questo però accade non solo nell'isola ma anche nelle altre regioni. Cambiamo argomento, una stagione da record per la Sardegna, anche per Alghero. Si guarda anche a settembre, ottobre, quando peraltro in città perlomeno cambieranno le tariffe della tassa di soggiorno. A tal proposito, in settimana si terrà una riunione congiunta di prima, terza e sesta commissione consigliere per approntare il nuovo regolamento. Convocato inizialmente per quest'oggi, l'incontro congiunto di prima, terza e sesta commissione consigliere per discutere del regolamento per l'applicazione e dell'imposta di soggiorno si terrà invece giovedì pomeriggio. Il tutto a un mese dall'entrata in vigore delle nuove tariffe, con gli aumenti decisi nei mesi scorsi. Inizialmente le tariffe aggiornate dovevano entrare in vigore dal 1 luglio, poi dopo le rimostranze degli operatori turistici, soprattutto, si è deciso di rimandare a ottobre. Scelta condivisa con l'amministrazione, che ora dovrà decidere anche sull'utilizzo degli introiti. Servirà anche a questo la riunione dei prossimi giorni, con la presidente della terza commissione, Monica Apulina, che in particolare aveva chiesto la covocazione delle associazioni di categoria. E proprio su questo aspetto, nei giorni scorsi, si è innescata una polemica. Fa sorridere che sia stato un componente del gruppo politico, dallo stesso assessore al turismo, a chiedere qualche motivazione in merito alla mancanza di coinvolgimento delle associazioni di categoria. Come opposizione, allora, abbiamo chiesto se il tavolo del turismo fosse ancora in carica e di coinvolgerlo a delle decisioni, ha scritto in una nota il consigliere comunale del PD, Mimo Pirisi, riferendosi alla riunione tenutasi nei giorni scorsi. Il consigliere Pirisi farebbe bene a prestare più attenzione alle commissioni, cui partecipa ed evitare mistificazioni, è stata la replica di Fratelli d'Italia, con la stessa Apulina e il collega Giovanni Monti. L'elaborazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno e di competenza degli uffici tributi e sviluppo economico, mentre le commissioni coinvolte nell'approvazione sono quelle a regolamenti e finanziario. L'amministrazione e le persone del sindaco e dell'assessore Cocco hanno già incontrato i rappresentanti del comparto turistico recettivo in diverse occasioni, proprio per parlare di imposta di soggiorno, hanno sottolineato i due esponenti di centrodestra in una nota. Ciò che ho proposto ieri è che i portatori di interesse vengono invitati pure in commissione, assumendomi il compito di invitarli ai lavori della terza commissione, contestualmente al voto del regolamento, ha precisato la Apulina. Gli assessori Cocco e Caria, l'intera maggioranza ha colto la proposta positivamente. La condivisione e il confronto sono un impegno di questa maggioranza, una pratica evidentemente sconosciuta al PD. L'assessore Cocco ha il pieno sostegno del gruppo e del partito di Fratelli d'Italia, si legge sempre nella nota, anche visto l'ottimo lavoro svolto in un anno record per la programmazione turistica. Il consigliere Pirisi vede divisioni ovunque, abituato alle divisioni del PD. Era la politica, la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. C'è stata anche una coda sui social dopo il confronto sul palco a Cagliari tra Giorgia Meloni e un attivista LGBTQ. Ho voluto in maniera pacifica esprimere il mio dissenso sulla sua visione della famiglia, ho voluto ricordare che siamo tutti uguali, o come direbbe lei, i fratelli d'Italia, di un'unica nazione dove dovrebbe esserci il diritto di potersi costruire una famiglia che sia essa fra due uomini o due donne e che possano accedere alle adozioni. Ha scritto in un post su Instagram il giovane Marco Marras che era salito sul palco che ha poi aggiunto Ringrazio Giorgia Meloni per il confronto e la polizia per essere stata buona con me perché ha capito che tipo di persona io sia, ovvero un ragazzo che voleva solo esprimere la sua opinione. Ringrazio tutti. Al post ha risposto subito la Meloni che a sua volta ha scritto Marco si è stato molto coraggioso e ho grande rispetto di chi ha il coraggio di difendere ciò in cui crede. La leader di Fratelli d'Italia ha voluto esprimere il suo punto di vista in un lungo post e innanzitutto ha chiarito che oggi ci sono le unioni civili e in Italia puoi tranquillamente legarti ufficialmente con chi vuoi non proporrei di togliere questo diritto. Poi ha aggiunto Non sono d'accordo sull'adozione come sai ma non perché consideri il tuo sentimento di minore valore rispetto a quello che provano un uomo e una donna considero giusto per intenderci anche che lo Stato italiano non consenta l'adozione da parte dei single e penso che non mi direi per questo che sono singlofoba come non sono omofoba lo considero giusto perché penso che un bambino abbia diritto a crescere con un padre e una madre intanto campagna elettorale che va avanti anche nell'isola sabato scorso il PD ha organizzato un banchetto ad Alghero con alcuni dei candidati sardi presenti mentre mercoledì arriva in Sardegna il segretario Dem Enrico Oletta tappa a Cagliari e poi a Sassari inviata invece la presentazione dei candidati di azioni Italia Viva inizialmente in programma quest'oggi a Cagliari quando potranno essere operati a Sassari i bambini in urgenza e anche in elezione cioè quelli che hanno prenotato da tempo l'intervento le liste d'attesa in Sardegna sono già belle lunghe per tutti mettiamo in fila anche i bambini ora è clamoroso il silenzio dell'assessore della sanità Mario Niedu la denuncia sulla chiusura della chirurgia pediatrica Sassari la ripresa dei viaggi della speranza per i bambini del nord Sardegna non lo riguardano l'assessore alla sanità Mario Niedu dovrebbe dimettersi è quanto scrive in una nota il consigliere comunale di opposizione Mario Bruno ex sindaco e consigliere regionale che torna sulla problematica già affrontata nei giorni scorsi qual è il progetto sulla chirurgia pediatrica nell'isola si chiede ancora il presidente Solina si resta coperto mentre Forza Italia chiede il commissariamento della sanità in Sardegna almeno da lui attendiamo risposte è vergognoso costringere le famiglie a ricorrere ai viaggi della speranza lungo la 131 tra l'altro a proprie spese con disagi infiniti i bambini del nord Sardegna non possono essere costretti da una politica regionale insensibile incapace di programmare ad andare a Cagliari su un'ambulanza per avere diritto alle cure e agli interventi necessari e ciò non è valido solo per le urgenze ma anche per gli interventi di routine quelli programmati, quelli in lista d'attesa se diamo atto alla dirigenza attuale dell'azienda mista di aver fatto almeno su questo tema ciò che era nelle proprie possibilità da quando in carica non altrettanto si può dire per l'assessore Niedu sapeva fin dal 2019 dal momento in cui l'allora primario facente funzioni aveva deciso di lasciare alla Sardegna il proprio incarico che si sarebbe trovato con un reparto sguarnito alla fine si è rimasti con un solo dirigente medico specialista che poteva svolgere funzioni di servizio notturno e sala operatoria cioè una chiusura annunciata in Sardegna, prosegue Bruno, non esiste una scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica per riaprire il reparto a Sassarese occorrono almeno sei dirigenti medici più un primario al Brozu per esempio l'unico reparto di chirurgia pediatrica in funzione nell'isola i dirigenti medici sono otto occorre trovare il modo di attingere a graduatori anche extra regione comunque fare presto perché il diritto alla salute è irrinunciabile per tutti per i bambini ancora di più conclude il consigliere comunale di centro-sinistra ci fermiamo invece adesso per una breve pausa pubblicitaria tra poco con le altre notizie nella seconda parte dopo la discesa dei candelieri altro record a Sassari per la cavalcata Sarda un appuntamento di richiamo da sempre ma condizionato anch'esso dalla pandemia l'edizione 2022 senza restrizioni ha restituito il giusto pubblico a uno degli eventi più apprezzati in Sardegna alle 15.30 e alle 23 su CatalanTV potrete seguire uno speciale realizzato da Chico Solinas di cui vi proponiamo un estratto tra l'altro con l'intervista al sindaco di Sassari siamo arrivati alla 71esima edizione sindaco finalmente dopo due anni rieccoci a colorare Sassari non a maggio ma a settembre lo spostamento è stato necessitato però ne siamo ben lieti perché Sassari offre al mondo una visione meravigliosa della nostra isola questa è la festa della Sardegna e la offriamo oltre che con la nostra musica, i nostri costumi, le nostre storie, le nostre tradizioni anche con il nostro fantastico sole e il fantastico clima quindi vetrina più bella non ci poteva essere anche se abbiamo rischiato un po' questo oggi per il tempo ma come sapete Sassari sa organizzare bene quindi fa piovere di sera e però ci godiamo il sole la mattina anche troppo a volte successo per la prima edizione del World War 4 Mori che ha portato per la prima volta in Sardegna ad Alghero i giganti del CrossFit Mondiale vincono gli USA del Team Mayhem primo gradino del podio anche per The Dumped Old Bad e Bloody e Team Red Fox vincono la prima edizione del WW4M il Team Red Fox per la categoria Open seguiti dai Boys di Mamma Kami e al terzo posto dal Team Black Wall nella categoria Master Young vincitori gli Old Bad and Bloody seguiti dal Team Alba Longa e terzi dall'Ancien The Dumped & Co per la categoria Master Classic secondo il Team Demodet terzo il Almost 200 e CrossFit Maheiman per la categoria Elite secondi Mamma Mia e terzi Train Like Fight WW4M è stato un piccolo grande successo sportivo di portata internazionale che inorgoglisce, destagionalizza e promuove grazie al prezioso aiuto dei volontari in campo nella tre giorni di gare alla collaborazione tra Bad Bors ed Insula Events al supporto di Comune di Alghero Fondazione Alghero e Fondazione di Sardegna e al sostegno del Barco di Sardegna ma anche di tutti i partner e degli sponsor della manifestazione i numeri del CrossFit 15.000 box sarebbero le palestre affiliati in oltre 120 paesi con oltre 3.500.000 praticanti nel mondo il WW4M contest di riconosciuto livello mondiale ha coinvolto ben 22 team Elite 35 team Open e 12 fra team Master Young & Classic una gara globale certificata dalla partecipazione di 4 team americani 2 inglesi 3 spagnoli un team australiano un tedesco e un francese senza considerare la presenza di CrossFitters svedesi islandesi finlandesi greci olandesi inseriti nelle varie squadre oltre ovviamente agli italiani e ai sardi che erano i padroni di casa la Sardegna si è trasformata infatti per 72 ore in una leggendaria terra di titani l'ormai famigerata Strong Sardinia la città di Alghero il suo mare le sue spiagge la sua gente hanno fatto da accogliente e funzionale sfondo alla manifestazione teatro di una prima assoluta dato che nessuno dei 4 team americani in gara si è mai esibito in Europa mentre tutti i team USA in corsa hanno partecipato lo scorso agosto ai games di Madison fra loro il team Mahamen che a Froning fa riferimento diretto ed ha un facundo il suo coach formato Deux Machina che ha vinto le ultime 4 edizioni dei games categoria team spazio anche al baseball nel TG di oggi nella pagina sportiva con il sogno promozione in Serie A della Catalana che purtroppo è svanito per un soffio infatti la squadra algerese dopo aver pareggiato la prima giornata disputatasi sul diamante di via Emilia Maria Pia ha perso entrambe le gare in terra Trentina a casa del Bolzano i due incontri sono terminati con il punteggio di 8 a 7 gara 3 e 4 a 3 invece gara 4 per i Bolzanini rammarico per la sconfitta ma anche tanti complimenti a questa squadra e ai suoi allenatori e giocatori che hanno dimostrato un ottimo livello di potersela davvero giocare appuntamento dunque rinviato alla prossima stagione e in chiusura la palla canestro il basket perché la palla canestro algero 1986 comunica che tutto pronto per la ripresa delle attività di mini basket nella struttura sportiva del Palamanchia da lunedì quindi da oggi 5 settembre si rinizia con tutti i gruppi mini basket con la possibilità di provare gratuitamente tutto il mese di settembre per i nuovi iscritti nati e nate dal 2012 al 2018 abbiamo il grande piacere di accogliere tra i nostri struttori mini basket la formatrice nazionale Chiara Baldino nata cestisticamente nel basket 90 dove dal mini basket è arrivata a giocare in serie B spiega il responsabile Antonello Muroni ha partecipato a tre finali nazionali e vinto diversi titoli regionali ha giocato in B nazionale con il Sant'Orsola allenato a Ittili Sassari Ozzieri a Porto Torre se ora arriva la palla canessoroghiero dove si occuperà dei gruppi Gazelle e Aquilotti e lavorerà in sinergia con Coach Fenu con il gruppo Under 15 Under 14 femminile in continuità dell'accordo in essere con il basket 90 da oggi da sottolineare che da oggi ripartiranno le categorie Gazelle Aquilotti e Libellule mentre più piccoli dunque Pulcini e Paperine nati negli anni 2016 2017 e 2018 partiranno a ottobre e il basket il basket giovanile chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale io come sempre vi lascio al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci a presto